Qui vi presentiamo le 5 migliori chiclete ellittiche. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Clarfit Mion Cross, ellittica. Clarfit Mion Cross è uno strumento ergonomico di allenamento della casa creato per migliorare l'efficienza del tuo corpo e ottenere il tuo sistema cardio sulla strada giusta. Come un vero cross trainer, lo strumento utilizza un allenamento totale per tutto il corpo braccia, gambe, glutei e anche spalle. Un sistema informatico integrato consente una formazione orientata agli obiettivi e anche alle prestazioni. Oltre al tempo, la velocità, l'uso calorico e l'intervallo sono inoltre mostrati nello spettacolo LCD chiaro. Passando al numero 4. Clarfit Orbi Fit Advanced Cross Trainer con cardiofrequenzimetro integrato. La bicicletta stazionaria Clarfit Orbi Fit Basic è ottimale per allenarsi ed educare direttamente in casa. Ergometro con schermo per poter organizzare il tuo allenamento e mantenerlo controllato. È una bici da allenamento sottile che è facile da configurare intorno alla casa e anche da assemblare. La resistenza è flessibile. È orientato con ruote per un trasporto molto facile e ha anche una superficie scanalata antiscivolo per evitare lesioni. Tempo, distanza, velocità, calorie, polso possono essere presentati sul monitor, per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Capital Sport Zellix Star MR, DR, ellittica. Ridefinire l'allenamento. Con la linea Capital Sport Zellix Cross Trainer avrai sicuramente l'innovazione del fitness fisico e level proprio a casa. In questo modo, l'istruttore incrociato è adatto ad ogni esigenza di allenamento. In vita al XXI secolo il fitness al giorno d'oggi deve essere multimediale oltre che connettivo. Per raggiungere questo obiettivo, la Relax B che si avvale di un'integrazione dell'applicazione Kinoa. Il che ti consente di accedere a oltre 100.000 km di più. Al Mostat è top of our list at number 2. Kettler Ellittica Axos Cross M New. Kettler Axos Cross M nuovo di Zecca è dotato di un particolare e affidabile sistema di arresto magnetico su 8 gradi. Alla scoperta della regolarità del battito cardiaco al fine di alterare e impostare il programma di allenamento in modo diverso in base alle esigenze. Ha un sistema informatico istintivo con visualizzazione permanente di 6 funzionalità. Altri attributi sulla console sono velocità, velocità di pedalata, utilizzo calorico, ora e data, cambio di disposizione e anche sforzo. E infine il numero 1 della nostra lista. Diadora Fitness Viki Cross Kiklit Ellittica La Kiklit di Adora Viki Cross è arredata con una console che prevede il rilevamento di vari componenti costituiti dal battito cardiaco tramite peluche a mano. Il peso è di 30 kg. Costruito in ferro e con regolazione dell'iniziativa azionata a mano di 8 gradi. Sulla console ha inoltre le caratteristiche tempo, autonomia, calorie, velocità. Lo schermo è in cristallo liquido e i pedali sono antiscivolo contro le lesioni durante l'esercizio fisico. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.